L'avevano ripetuto in molti che fidarsi dei talebani mentre promettevano un Afghanistan moderno, al pari passo dei diritti del mondo occidentale e tutto il resto, insomma, sarebbe stato un errore enorme. Noi abbiamo fatto perfino peggio, ce ne siamo dimenticati. E infatti ieri i talebani hanno bruscamente revocato la loro decisione di consentire la riapertura delle scuole superiori ai femminili questa settimana, dicendo che rimarranno chiuse fino, hanno detto, a quando i funzionari non elaboreranno un piano per la loro riapertura in conformità con la legge islamica. Del resto, governare un paese, riferendosi alla presunta parola di un presunto dio, comporta sempre questo rischio. Ogni interpretazione diventa legittima. Così, un milione e mezzo di ragazze sopra agli undici anni vedono soffocato il proprio desiderio di istruirsi, con buona pace anche dell'Occidente, che aveva promesso di non lasciarle mai sole. In tutta la capitale, Kabul, ieri, molte ragazze erano arrivati a scuola entusiaste di tornare nei campus e alcune scuole hanno riaperto, almeno per qualche ora. Ma quando si è diffusa la notizia che i talebani avevano invertito la loro decisione, molte se ne sono andate in lacrime. In questi mesi la comunità internazionale ha fatto dell'educazione delle ragazze una condizione centrale per gli aiuti esteri e di ogni futuro riconoscimento dei talebani. Sotto il primo governo talebano, quello dal 1996 al 2001, il gruppo aveva vietato alle donne e alle ragazze la scuola e la maggior parte delle professioni. Fietare di frequentare le scuole secondarie alle ragazze è una scelta che contraddice la linea politica governativa afghana sostenuta in tutti questi mesi, che sembrava mirare agli aiuti e al riconoscimento politico da parte della comunità internazionale. Il diritto paritetico all'educazione, per tutti, infatti è uno dei punti dirimenti della trattativa con il regime afghano. Chissà se togna di moda l'Afghanistan. Buon giovedì.